Buongiorno, sono Vittorio Moncada, consulente immobiliare Sella Polare. Quest'oggi ci troviamo in piazza di Sita di Barletta, nel cuore del quartiere Libertà. Siamo in una zona fortemente servita, a due passi dal Tribunale, vicinissime al centro cittadino. Stiamo andando a visionare uno splendido appartamento di 110 metri quadri, situato in Viettore Fiera Mosca 32M. Seguitevi! Come potete visionare veniamo accolti da questo comodo tinello, comunicante tramite corridoio e porta di accesso, in questo ampio soggiorno doppio, soggiorno che potenzialmente potrebbe divenire un grande open space con salone e cucina, perché grande versatilità di questo appartamento è l'assenza di pilastri centrali all'interno della planimetria. Abbiamo, come potete visionare, un sostegno totale su trave, che ci dà la possibilità di rimodulare facilmente gli ambienti. Sulla sinistra si sviluppa un'ampia cucina abitabile, con comodo balcone angolare, cucina che appunto potrebbe divenire una terza camera da letto, vista la presenza già di due ampie camere. La prima sul lato sinistro, con comodo balcone, seconda frontalmente, con porta finestra che dà accesso sullo stesso balcone. Infine, di fianco, si sviluppa un ampio bagno recentemente ristrutturato con finestra e piatto doccia. Un grande vantaggio è la possibilità di poter beneficiare dei vari bonus che lo Stato ha messo a disposizione per poter ristrutturare e quindi personalizzare la propria abitazione. In questo caso parliamo di 110 metri quadri adibiti a trilocale, facilmente trasformabili in un quadrilocale. È la casa che stavi cercando? Sono qui pronto a potertela far visionare di persona. Grazie a tutti.